Il video dei media mainstream è di dire come ti permetti di mettere in discussione ciò che è ovvio e naturale, ciò che è ovvio e naturale, cioè esiste la moneta unica, come esiste la chioggia, così esiste la moneta unica. Sarai mica matto a mettere in discussione questo fenomeno naturale, oppure, ma non lo sai che è mille volte meglio avere la moneta unica invece che la liretta? Alla domanda dimostramelo, di solito parcollano, perché noi siamo diventati la settima potenza industriale del mondo con la liretta e siamo su una strada di declino pauroso con l'euro. Perché è stato fatto l'euro? Allora bisogna andare a vedere che cose dicevano coloro che l'hanno fatto. Chi l'ha fatto? Andreatta, Ciampi, Rodi. Su quale base, su quale ragionamento di filosofia politico-economica è stato fatto? Sull'ordoliberalismo. Allora bisogna andarsi a studiare l'ordoliberalismo. Qual è la tesi di fondo? La tesi di fondo è che esiste un male assoluto su questa terra e questo male assoluto è l'inflazione. Esiste un bene assoluto su questa terra che è la stabilità monetaria e sociale. Bene assoluto vuol dire che gli altri valgono meno. Che cosa vale meno della stabilità monetaria e sociale? Che so io. Il concetto di piena occupazione. Mentre il sistema politico-economico precedente, che chiameremo keynesiano, molto all'ingrosso, comunque il modello Bretton-Colz aveva come nemico la disoccupazione. E come obiettivo la gestione pubblica, non dell'economia, ma degli equilibri economici, cioè lo Stato sociale, il modello che lo ha seguito, cioè l'ordoliberalismo, ha come obiettivo bloccare l'inflazione a tutti i costi. C'è un obiettivo deflattivo, togliere denaro, togliere denaro. Come si fa a togliere denaro? Beh, si impedisce allo Stato di stampare. E così se lo Stato ha bisogno di soldi, si deve andare a prendere sul mercato come me. Che devo andare da qualcuno che ce li ha e dirgli, me li dai? Da cui la crescita astronomica del nostro debito pubblico. E allora una data importante sarà il cosiddetto divorzio. Quando il Ministero del Tesoro mandò a dire alla Banca d'Italia non mi comprare più i bond che emetto. E così si realizzò il grande dogma del neoliberalismo, dell'ordoliberalismo e del monetarismo, cioè la moneta non deve essere nelle mani dei politici. Sa poi perché. Ma la moneta non deve essere nelle mani dei politici. Perché i politici sono dei farabuti delinquenti clientelari che fanno ogni tipo di porcheria. Invece i finanzieri sono dei garantuomini, dei signori attenti al bene comune, onesti, interessati alla società. deflazione, cioè tutti gli anni che il Signore manda in terra, lo Stato italiano deve tagliare 20, 30, 40 miliardi di euro dal proprio bilancio. Renaro che non ci deve essere. Questo è il costo dell'euro, questo è il costo dell'euro. E questo fa sì che poi lo Stato dica che i ponti cadono, la sanità non funziona, l'università è sottofinanziata da 20 anni, perché? Oh, non ho soldi, cosa vuole chiedere. E la risposta è ma perché ti sei infilato in questo tunnel alla fine del quale c'è la deflazione e c'è il costo sociale dei costi economici. Perché quando l'economia non funziona, dopo un po' non funziona più la società e non funziona più la democrazia. Torno a dire, quando tu vedi che ti licenziano, ti tolgono la pensione, ti tolgono i diritti, il tuo figlio non trova lavoro, magari la democrazia non è più il tuo primo interesse.